Good morning Milano, good morning a tutti, buongiorno come state? Cosa state facendo di bello alle 7.09 di oggi martedì 25 giugno? Ben ritrovati qui su Crystal Radio 96.2 FM, questa è Good Morning Milano, la sveglia mattutina, la sveglia dei milanesi, la sveglia che vi butta giù dal letto, vi fa entrare di diritto negli eroi della mattina perché dovete affrontare per l'ennesima volta una città sotto l'acqua, benissimo, siamo solo al 25 giugno, l'estate arriverà chissà quando, non c'è problema, questo autunno non ci piace tanto, bello, adesso tiriamo fuori lo scatolone con l'albero di Natale e gli addobbi così siamo pronti, va bene? Ragazzi non so più cosa dirvi davvero, è una roba pazzesca, qualcosa che facciamo fatica a digerire questo clima. Comunque ditemi come state, cosa avete in programma per la giornata o cosa avete fatto di bello ieri oltre ad aver visto la partita dell'Italia, 3317853555, fatemi sapere un po' quali sono i vostri progetti così ne parliamo un po' qui in diretta tutta la mattina. Va bene? Siete contenti? Dai abbiamo tante notizie, abbiamo tanta musica, oggi tra parentesi è appunto dicevo il 25 giugno e 25 giugno 2009 moriva Michael Jackson e quindi non possiamo che iniziare la puntata ovviamente con il grandissimo Michael Jackson, più Michael per tutti, lo diciamo ogni volta. Michael Jackson black or white, 7 e 13 minuti, 25 giugno appunto il giorno nel 2009, oggi scompariva moriva Michael Jackson, allora insomma non potevamo aprire la puntata con appunto Michael Jackson oltretutto il 25 giugno invece del 1997 moriva Jacques-Yves Cousteau, Jacques Cousteau chissà se qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, quelli insomma diciamo della mia età in su se lo ricordano sicuramente, ecco lui che ci ha fatto conoscere il mare con i suoi documentari era un po' il Piero Angela dei fondali marini, no? Ecco Jacques Cousteau insomma ci ha portato veramente a solcare tutti gli oceani, tutti i mari di questo mondo incollati davanti alla tv con questo racconto particolare appunto che faceva degli abissi. Bello secondo me poi ricordarlo anche perché è un po' colui ovviamente, non so se è mai stato dichiarato o no, che ha ispirato diciamo uno dei più famosi dei film più famosi di Wes Anderson che è Le avventure acquatiche di Steve Zissou ovviamente si rifà al personaggio di Jacques Cousteau, un film molto molto interessante se volete andarlo a vedere, ma è anche bello perché so che invece su Netflix c'è un documentario proprio su Jacques Cousteau, cioè Jacques Cousteau faceva documentari sul mare e anni dopo è stato fatto un documentario su di lui e su che cosa volesse dire, raccontare intorno agli anni 70 e 80 i mari, gli abissi appunto, con anche tra parentesi delle tecnologie che non esistevano quindi si dovevano inventare per poter raccontare quei luoghi grazie mille anche a chi ci sta scrivendo un whatsapp in questo momento come ad esempio Alberto al 3317853555 ci scrive un saluto agli ascoltatori di Crystal Radio, a Fabio e a Lisa dopo la serata calcistica carica di Patos ricordiamo che abbiamo pareggiato al novantottesimo cioè praticamente abbiamo pareggiato nella partita dopo stavamo già giocando quella dopo, abbiamo pareggiato in quella, ce l'hanno contata in quello prima più o meno e quindi Alberto dice appunto che dopo la serata calcistica carica di Patos appena trascorsa ci apprestiamo ad affrontare un'altra giornata milanese con la pioggia e per qualcuno è meno tre e sì, Lisa credo ce l'abbia con noi parlo con la mia producer, credo ce l'abbia con noi con questo meno tre perché meno tre dobbiamo calcolare mercoledì, giovedì e venerdì oggi non si calcola, giusto? mi chiedo sempre, mancano tre giorni ma si calcola il giorno in cui sei o no? abbiamo appena iniziato, dalle anche cinque minuti io lo calcolerei quindi diciamo che siamo ancora a meno tre e mezzo dai, quattro, tre virgola otto non so, no però effettivamente abbiamo appena iniziato quindi oggi c'è anche oggi dobbiamo contare che oggi sì comunque grazie e soprattutto Alberto ci ricorda una cosa anche che è tutto, la pioggia, noi meno tre, quello che volete e domani sciopero dei mezzi quindi ragazzi stay zen cioè dobbiamo veramente rimanere molto molto zen perché qua se no va a finire che male cioè dobbiamo un bel respiro tutti quanti insieme così ecco così, bravissimi dobbiamo fare così perché se no non arriviamo al primo di agosto cioè che sarà così cosa faccio a luglio senza di voi senza la mattina? io mi alzerò lo stesso e dirò buongiorno, good morning Milano così alle sette del mattino sarà contento di chi dorme con me cioè così buongiorno, good morning Milano partiamo con la musica 3317853555 numeri a caso mi scriverò dei whatsapp da solo per non sentirmi solo, va bene no dai comunque appunto a noi mancano solo tre giorni ma vi assicuro in questi tre giorni che vi faremo compagnia come sempre vi ricordo anche che potete riascoltare tutte le nostre puntate tutti i nostri interventi gli ospiti i collegamenti tutto quello che abbiamo nel nostro menu sul sito goodmorning.milano.it oppure c'è il podcast sia su Spotify che su Apple Podcast insomma ovunque vogliate andare noi ci siamo e veniamo con voi sperando però magari di non trovare traffico Sfere Basta 15 piani i 15 piani di cui ieri ha riempito San Siro Sfere Basta San Siro questa sera replica di nuovo ragazzi questo è quanto nel senso so che molti di voi in questo momento storceranno il naso diranno ecco San Siro intoccabile ma ve lo ricordate quando arrivò Bob Marley a San Siro nel 1980 sì è vero non è più quel San Siro ragazzi ma San Siro è come un qualsiasi altro palazzetto dello sport si affitta e si fa il concerto quindi anche artisti più emergenti ovviamente tipo Marley sì ah ma ve lo ricordate Ben Nato il primo artista italiano a fare San Siro sempre nel 1980 però ce lo ricordo questo ah vi ricordate gli Udu sì benissimo Spristin Spristin quest'anno non è venuto quindi attenzione a fare l'esempio di Spristin sta di fatto che così è nel senso ovviamente per noi magari c'è meno poesia di tutto però vi assicuro ieri sono passato proprio sotto allo stadio ho fatto un giro per illustrativo sotto allo stadio per vedere diciamo la fauna che alimenta il pubblico di Sfere Basta ed era veramente una festa nel senso che tantissimi ragazzi e ragazze anche molto molto giovani ho rivisto una cosa tra parentesi perché sono passato durante il concerto sono passato prima del concerto e quindi ho visto tutto l'andante e indietro tra l'andante tutti un po' simili ma ci sta perché avete mai visto quelli di Vasco uguale quindi non cambia niente tutti uguali c'è maglietta nera c'è il cappello un po' rasato sui lati un po' di tatuaggio c'è tutto così era bellissimo c'erano tutti abbastanza simili ma ripeto avete mai visto quelli di Vasco c'è anche qua sono fatti con lo stampino quindi non ci mancherebbe ma poi sono ripassato durante il concerto io ho rivisto una cosa che erano tanti anni che non vedevo perché qua a San Siro magari concerti di artisti con un pubblico così giovane è complicato a vedere poi soprattutto è complicato a vedere chi li accompagna abbiamo visto le mamme e i papà che aspettavano fuori perché ci sono magari dei minorenni che vanno dentro a vedere il concerto oppure magari gruppi di amici che vanno dentro però non sanno come arrivare così allora c'era dei genitori che aspettavano fuori questo mi fa capire anche come Svere Basta sia appunto uno di quegli artisti con cui dobbiamo per forza fare i conti volente o nolente ok lo so benissimo che appunto vi tirate fuori qui volete al mitico concerto va bene ok portatevelo nella tomba insieme a voi come ricordo però adesso è questo ci sta cioè è normale come un altro artista che ieri invece ha annunciato il suo prossimo tour negli stadi perché così ormai non sono ancora finiti gli stadi di quest'anno stiamo già raccontando gli stadi del prossimo anno Elisa il prossimo anno ad esempio è già sold out così giusto per capire Elisa San Siro prossimo anno sold out anche ultimo ultimo il 5 luglio del 2025 farà il concerto ieri sono usciti i biglietti ok e anche ultimo è uno di quegli artisti che allora io lo so che tutti diciamo è antipatico è quello che volete senza neanche averlo mai conosciuto poi tra parentesi quindi insomma io su questo devo ringraziare la mia produzione Elisa che ieri mi ha fatto fare un bel ragionamento su ultimo su questo tipo di artista cioè è un artista sicuramente che ha un grande bisogno di esprimersi lo si sente è palpabile questa sua è proprio una necessità si sente nelle sue canzoni ha un pubblico che lo segue sicuramente non è il nuovo Vasco Rossi non lo sappiamo non possiamo saperlo è anche una carriera iniziata relativamente da poco quindi insomma diamo spazio ripeto sì noi ce la facciamo grande noi avevamo Lucio Dalla noi avevamo Battisti noi avevamo Vasco Rossi tutti questi qua ti chiamo in ballo sempre ok adesso ci sono questi nuovi magari ascoltiamoli un attimo prima invece di subito giudicare o dire subito no quella roba lì non è all'altezza di San Siro non è all'altezza dei concerti non è all'altezza di poi riempire uno stadio di San Siro con 80.000 persone quindi insomma ecco facciamoci sempre qualche domanda i decolos con Karma le 7 e 34 minuti su Crystal Radio Good Morning Milano 331-7853-555 il numero di Whatsapp a cui potete scrivere per intervenire e farci sapere un po' quello che state combinando in questa mattinata di fine ottobre no è il 25 giugno però la battuta ormai viene facile è anche un po' stancante devo dire come battuta però effettivamente è una roba pazzesca comunque ieri sera dicevo c'è stato il concerto di Sfera e Basta a San Siro e è successa una cosa interessante o meglio è tornato a farsi vedere chi Dede Dede Late Dede Late non so come si chiama non so come si legga però Dede Late su Instagram è quel ragazzo che qualche settimana fa si era arrampicato sulla Madonnina no per fare quel selfie con la Madonnina insomma ricordate i capelli biondo ossigenati si era fatta questa foto insomma è una situazione che non è che è stata l'indagine poi abbiamo letto i giorni scorsi l'hanno cercato l'hanno identificato e tutto e infatti identificato così bene che ieri sera il caro Dede Late è salito sullo stadio di San Siro su proprio le travi rosse che voi vedete da fuori quelle in alto che tengono sul tetto per intenderci quelle lì benissimo si è fatta una bella passeggiata sopra lì durante il concerto di Sfera e Basta in un'intervista che ha lasciato al giorno ha detto anche sono sfuggito a 80 sbirri così ha detto insomma c'è un pochino d'arroganza mi sembra queste parole così è proprio latente vorrei dire postato una decina di foto più o meno postato un po' di foto sul profilo appunto di Instagram è riuscito a salire fin sopra alle coperture rosse a questi grandissimi travi rosse che passano sopra San Siro si è fatto una passeggiata da lì poi si è fatto un paio di foto mentre ascoltava il concerto un bel video con i piedi a penzoloni questo è quanto bella idea direi ecco qui secondo me stiamo veramente un po' però superando il limite anche perché ricordiamo sempre di base poi c'è sempre la famosa maglietta la famosa t-shirt incriminata cioè il fatto che questi selfie queste foto vengano fatte con addosso una maglietta la maglietta che ha messo anche addosso la madonnina nel selfie precedente e che insomma sembrerebbe essere proprio il motivo per cui lui faccia questa cosa cioè una trovata pubblicitaria diciamo per questo suo marchio di t-shirt il ragazzo è minorenne tra parentesi quindi tutte le foto che ci sono in giro sono a volto coperto adesso cioè pixelato dalle varie testate lui fa i video tranquillamente a volto scoperto quindi tra parentesi cioè il materiale c'è quindi adesso dobbiamo capire appunto identificato è riuscito comunque a salire adesso ci manca solo questo che quindi adesso darò in avanti ogni volta che andremo a un concerto ogni volta che andremo a una cosa sarà ancora più sicurezza perché c'è il rischio che qualcuno faccia azioni del genere bene devo dire che ci inventiamo sempre qualcosa di nuovo ed è sempre bello interessante vedere come ogni volta andiamo a peggiorare complimenti a tutti quanti complimenti proprio al genere umano mi verrebbe da dire comunque dai questo è quanto se volete Rolling Stone ieri subito appena successo aveva ribattuto la notizia con anche le foto e i video dell'accaduto sono davvero c'è un video di lui che corre sulla copertura ripreso da sotto che è veramente inquietante fa quasi paura e mi chiedo come abbia potuto rimanere però là senza che nessuno intervenisse cioè ok il concetto è da dove è uscito poi com'è che è riuscito a uscire senza problemi cioè entrare vabbè c'è tutta la marmaglia di gente e uscire qui l'ha aspettato che uscissero tutti gli 80.000 evidentemente ha fatto così ha fatto cioè l'unico modo che c'era era questo mi viene da dire nel senso comunque vabbè dai andiamo con un po' di musica adesso è il momento di Mahmoud Mahmoud Rattata 7.41 minuti Cristian Radio Good Morning Milano e ho qui davanti poi i giornali perché ci sono davvero tantissime notizie che stiamo leggendo oltretutto dobbiamo aprire la segna stampa con una notizia brutta una brutta notizia che ci è arrivata questa ieri sera appunto nelle varie redazioni nelle varie agenzie hanno scritto poi appunto questa mattina troviamo anche gli articoli perché è morta Roberta Guaineri l'ex assessore nella prima giunta a sala l'ex assessore allo sport e turismo del Comune di Milano 57 anni ha avuto da quanto sarebbero arrivano le prime notizie appunto era in vacanza in Sardegna un malore ed è morta non ci spiace tanto perché appunto Roberta Guaineri che avevamo anche intervistato più di una volta aveva avuto modo di incontrare in varie situazioni e insomma non è mai una bella notizia quando succedono cose del genere e insomma infatti tutti i social questa mattina milanese e le pagine di Milano di questa mattina sono veramente piene del cordoglio verso appunto per la morte appunto di Roberta Guaineri che veramente ci spiace davvero davvero tanto notizie invece che cerco di darvi qualche notizia che vi possa un po' tirare su il morale come ad esempio quella che leggiamo sul Corriere della Sera Milano la storia di Avish 11 anni il piccolo Sanpei della Darsena di Milano pescando imparo ad avere pazienza i vecchi mi regalano le esche però nessun pesce finisce in padella e si è un bambino i suoi genitori sono emigrati dalle Mauricius ha imparato le tecniche da autodidatto e ora è diventato la mascotte dei pescatori dei navigli mi insegnano il movimento giusto perché il pesce abbocchi dopodiché una volta che il pesce abboccato viene ributtato dentro diciamo pesca sportiva per il piccolo Avish è una bella storia raccontata sul Corriere della Sera Milano di oggi con tanto di foto e di consigli appunto che o meglio dei consigli che i vecchi come li chiama Avish danno al piccolo Avish di 11 anni un anno fa un pescatore vedendolo così interessato gli ha fatto provare la sua attrezzatura è stato un colpo di fulmine ho capito che volevo imparare così ho chiesto ai miei genitori di comparmi una canna da pesca il regalo arriva dopo qualche mese a novembre per il suo compleanno ma nessuno in famiglia sa pescare io lo facevo da bambino con i miei fratelli e alle Mauricius ma usavamo le reti dice appunto il papà Rina allora Avish comincia a studiare le tecniche su youtube e fa tesoro e suggerimenti soprattutto dei pescatori milanesi come ad esempio il signor Bartolomeo che mi aiuta spesso così dice Avish insomma una bella storia se prendi un prescio grosso mi mandi le foto gli dice prima di salire insieme agli altri compagni su una delle barche di Canottieri San Cristofono gli amici però ormai si è fatto anche gli amici quindi anche chi passa di lì ogni volta dice mi raccomando se prendi qualcosa di grosso mandami una foto che voglio vedere poi appunto come dicevo Avish pesca e butta poi il pesce nuovo dentro quindi insomma appunto pesca sportiva è bella una bella storia che potete leggere oggi ben dettagliata sul Corriere della Sera Milano insomma Milano dà ancora queste storie per fortuna insomma sono le notizie che ci piace leggere sono le storie che mi piace raccontarvi così che possiate anche avere un po' di romanticismo verso il luogo immagino io so già che appena ho detto pescare una data vengono fuori i pesci con i tre occhi Springfield i pesci dei Simpsons no sappiamoissimo che l'acqua della viglia in realtà è pulita i pesci sono pesci a punto che non si mangiano li peschi poi li rimetti dentro giusto per passare il tempo anzi pescando imparo ad avere pazienza 11 anni quanta saggezza in questo piccolo Sanpei che a 11 anni parla di pazienza pazienza noia tutti quei termini che non sappiamo minimamente che cosa sono noi altri tanto home tanto home per tutti effettivamente perché perché non è facile questa città c'è la pioggia c'è il traffico e soprattutto leggiamo da Repubblica Milano traffico a Milano da tre mesi non ci sono i dati e le ricerche indicano invece più ingorghi secondo lo studio data mobility 2024 l'utilizzo dell'auto privata a Milano è salito salito del 10% la velocità media è scesa è scesa del 7,5% da aprile Amat non comunica i numeri sugli ingressi in area B e C i ritardi con un fornitore presto arriveranno così si scusa Amat quindi è mistero appunto perché se dopo gli ultimi dettagli relativi al mese di marzo il consigliere Carlo Monguzzi anzi un saluto a radio Carlo Monguzzi appunto se secondo Carlo Monguzzi dopo i dati relativi al mese di marzo non si trova più nulla sul sito di Amat non sono monitorati solo i primi cioè sono monitorati solo i primi tre mesi del 2023 così come sono fermi anche gli open data giornalieri di area C sul sito del comune di Milano Palazzo Marino non fornisce informazioni da tre mesi in democrazia questo è inaccettabile dice appunto Monguzzi e poi aggiunge non credo che nascondendo i dati si risolvano i problemi le polemiche intorno ai numeri però in realtà arrivano da lontano perché se prima in realtà riguardava solo l'assenza di una parte dei dati Monguzzi dice appunto io non avevo non avevamo i numeri dei quanti entrano nelle varie ZTL fuori dagli orari dei divieti ok avevamo solo il numero degli ingressi durante i divieti accesi diciamo durante le ZTL accese bene adesso mancano anche anche quelli ovviamente appunto l'assessore Censi parla e passa la palla però ad Amat quindi dice il problema è Amat e Amat dice che appunto ci sono dei problemi con un fornitore e quindi arriveranno questo è quello che è la situazione del traffico adesso però direggiamo che la ricerca di Data Mobility 2024 che dice che il 10% in più di noi a Milano utilizza l'auto privata è insomma è un grosso problema soprattutto anche quella della velocità media che è scesa del 7,5% uno studio appunto data Mobility 2024 che bisogna dare un'occhiata poi ce lo guarderemo bene nei prossimi giorni magari lo lo capiremo e lo analizzeremo insieme oltretutto ci sono anche ritardi in lavori ritardi in lavori sono in ritardo i lavori per la corsia preferenziale in piazza Stuparic sembrava tutto fatto oh finalmente in piazza Stuparic avremo la corsia preferenziale che è l'unico pezzo che manca lì per la cerchia 90-91 niente neanche lì perché l'inizio è previsto è slittato a luglio la partenza del cantiere è stata prevista per la primavera forse perché aspettano che finisca l'autunno visto il meteo che c'è fuori non lo so vabbè comunque il nuovo assetto prevede piste ciclabili e giardini su un tratto di un chilometro della linea 90-91 quindi falsa partenza annunciata in primavera e quindi slittamento dei lavori entro in teoria luglio anche qui puoi già capire se inizio luglio o fine luglio sicuramente il meteo non aiuta però proprio zero non si vede neanche un cartello del cantiere ancora quindi è veramente problematica la situazione nel senso che abbiamo da una parte come ci dice questo report data mobility 2024 l'utilizzo dell'auto che aumenta dall'altra una corsia preferenziale che aspettiamo almeno ormai da 10 anni che invece non viene fatta non è facile non è facile vivere a Milano non è facile anche governare non è facile anche fare le cose a Milano però insomma forse a un certo punto si arriva a un limite per cui la gente fa bene un po' a lamentarsi adesso va bene tutto ed era Pino Daniele alle 8 e 09 di oggi martedì 25 giugno questa è Crystal Radio questo è Good Morning Milano grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 33178535555 e coloro che ci ascoltano come ad esempio la signora Alda che so che ci sta ascoltando in questo momento in diretta quindi un saluto alla signora Alda una maestra una professoressa anzi una professoressa di scuola media adesso in pensione ma insomma che ha fatto tanto sicuramente per i suoi studenti quindi un saluto e grazie per l'operato come si dice in questi casi grazie per il lavoro sociale che fanno gli insegnanti e che troppo spesso magari ci dimentichiamo parliamo di perché parlo di insegnanti in questo caso della signora Alda ma insomma perché perché sono stati è stata eletta una nuova rettrice alla cattolica e un'altra donna quindi a guidare un'università milanese Elena Baccalli è la nuova rettrice della cattolica prima donna la guida di Largo Gemelli e quarta negli otto atenei milanesi su otto atenei milanesi quattro sono a direzione appunto femminile questo è quello che è successo appunto alla cattolica altro rettore invece o meglio nuovo rettore o meglio riconferma del rettore invece alla Bocconi il rettore Billari dice chiunque deve poter studiare in Bocconi anche se non ha i mezzi sarà lui a guidare l'università anche nel prossimo triennio il consiglio dell'amministrazione l'ha riconfermato all'unanimità e quindi un'altra riconferma quindi per quello che appunto era il rettore uscente della Bocconi che invece viene riconfermato appunto e invece tanti auguri Elena Baccalli che è la nuova rettrice della cattolica insomma sono tutti come dicevo è importante appunto l'insegnamento l'educazione non è solo accademia non è solo nozioni ma è molto di più è una parte immensa della nostra vita se ci pensate che passiamo davvero i migliori anni della nostra vita li passiamo sui banchi di scuola e li passiamo sperando di avere delle guide di fianco a noi e sicuramente la signora Alda è stata guida per chissà quanti ragazzi e ragazzine ragazzini e ragazzine ragazze insomma giovani e adulti che si apprestavano appunto alle medie e i nuovi rettori dell'università appunto Bocconi e Cattolica saranno i fari nella notte di questi studenti di tantissimi migliaia e migliaia di studenti che vengono a Milano e che fanno di Milano la più grande città universitaria d'Italia con il maggior numero di studenti e con il maggior numero di Atenei davvero come sempre a Milano non si pensa mai quando si pensa di Milano quando si parla di Milano non viene mai in mente di definirla una città universitaria ma a tutti gli effetti una città universitaria che però troppo spesso si dimentica di questi studenti tantissimi sono fuori sede più del 60% sono fuori sede gente che arriva da fuori regione da lontano e che ha difficoltà però a trovare un'ubicazione a trovare una modalità per sopravvivere in questa città e per poter anche studiare insomma Milano è una città accogliente quando vuole in altre situazioni non lo è speriamo che i rettori magari insomma che si mettano anche un po' insieme per cercare di trovare delle soluzioni o delle richieste valide serie e puntuali alla politica che ovviamente deve rispondere invece dei bisogni dei cittadini e gli universitari di Milano anche se non hanno una residenza qua sono a tutti gli effetti dei cittadini che vanno preservati anzi vanno ascoltati quindi grazie a tutti coloro che scelgono Milano per venire qui a studiare e iniziamo e continuiamo scusate con un po' di musica la fantasia giovanotti penso positivo e la fantasia è quella che ci vuole per leggere certi articoli e soprattutto capire perché esce oggi questa notizia a Milano leggo la Corriere della Sera a Milano la roulette del dopo sala tutte le ipotesi sugli sfidanti per la poltuna di sindaco perché si va a elezioni no? si nel 2027 però o meglio c'è in realtà una domanda anzi principale da fare quando si andrà a elezione perché allora cosa succede? gli anni scadono cioè il secondo mandato scadrebbe nel 2027 ma il secondo mandato è iniziato con un anno di ritardo per via del covid quindi la naturale scadenza in realtà sarebbe il 2026 se facessimo il conto dal primo mandato sala dalle elezioni appunto pre-covid quindi già la prima incognita è questa non si sa se si andrà a votare per le elezioni del consiglio comunale del sindaco della giunta se si andrà nel 2026 o nel 2027 questo quindi cosa comporta anche che quindi si ok facciamo il totto nomi ma non sappiamo ancora bene chi sarà in più c'è l'incognita Maran nel senso che se Maran viene confermato in Parlamento Europeo si libera un posto in giunta e quindi chi prenderà il posto di Maran quindi già questo è un'altra questione no? bene tra ben di se dobbiamo saperlo prima non abbiamo ancora saputo comunque comunque va bene questo è un'altra questione quindi poi nasce invece il toto il toto sindaco sarà che insomma d'estate si fa il calcio mercato e quindi anche i giornalisti politici si divertono con il sindaco mercato e quindi dobbiamo capire un po' come andrà al momento che cosa sappiamo sappiamo che da una parte partiamo dal centro-sinistra i nomi papabili in questo momento sono più o meno tre Pierfrancesco Maiorino attuale capo dell'opposizione in regione l'attuale vice sindaca Anna Scavuzzo sostenuta da parecchie realtà del mondo cattolico e con l'attuale assessore al bilancio Manuel Conte che è molto apprezzato da sala ma in rampa di lancio come dice il Corriere della Sera c'è anche l'ex rettore del Politecnico Ferruccio resta che è stimato sia da destra che da sinistra e se dovesse essere appunto confermata le elezioni di Pierfrancesco Baranni in Europa l'ala riformista del PD potrebbe convergere anch'essa su potrebbe convergere anch'essa su Ferruccio resta quindi insomma quotazioni molto molto alti ci sono poi delle suggestioni che non tramontano mai potremmo dire come quella dell'ex direttore di Repubblica Mario Calabresi oppure come quella dell'archistar Stefano Boeri che però dicono che sono già impegnati in altro quindi per adesso rimangono fuori dal trio più forte ma anche il centro-destra comincia a fare delle sue supposizioni in realtà lì c'è un nome che la sta facendo un po' su tutto padrone anche perché qualche mese fa Salvini ha detto prima decidiamo chi sono i sindaci delle grandi città come ad esempio Milano e quindi se facciamo una scelta prima la facciamo prima il centro-destra crescerà anche a livello nazionale quindi insomma dà un'idea di fermezza e di continuità Regina De Albertis appunto prima presidente donna nella storia di Assin Predil Ance e a capo della Borio Mangiarotti insieme al fratello Edoardo insomma Regina De Albertis è quello che sembra il nome più papabile in questo momento sul piatto del centro-destra quindi di chi potrebbe prendere chi potrebbe essere il candidato sindaco per il centro-destra elezioni come dicevo non sappiamo ancora però se saranno nel 2026 oppure nel 2027 dobbiamo decidere dobbiamo star qui a vedere che cosa decideranno di fare voi cosa ne pensate 3317853555 chi vorreste come sindaco della vostra città chi vorreste come sindaco di Milano io non sono tre candidati ve lo dico e sono solo canzonette Edoardo Bennato è il toto sindaci chissà non sappiamo quando andremo a votare ma già facciamo il toto sindaci davvero non è male questo esercizio di fantasia la fantasia che cerco e spero tutte le mattine di stimolarvi con la grande musica di Crystal Radio e che cerco anche di stimolare che cosa la voglia di ballare quindi andiamo avanti con un po' di musica quella che vi fa ballare tu adesso qui salta su salta fuori dalla macchina apri il finestrino canta e balla insieme ai Bee Gees I Simple Redcon Fairground sempre qui in diretta ben ritornati ultima mezz'ora di trasmissione siamo qua appunto a raccontarvi un po' quello che succede nella città ma soprattutto ad ascoltare la grande musica di Crystal Radio le notizie che arrivano dai giornali poi sono volte che ti dicono ma scusa non era già successo tipo leggiamo da Repubblica Milano linea M5 da Milano a Monza via libera al prolungamento ma non c'era già stato questa notizia qua l'ho letta almeno tre volte in questa stagione cosa è successo ancora sarà la prima metropolitana a collegare due capoluoghi di provincia investimenti per 1,3 miliardi i cantieri recupereranno circa 50 ettari di cui 70% di area agricola sono felicissimi immagino quelli agricoltori prendono le subvenzioni al fine li salviamo quasi però meno agricoltura meno agricoltura per tutti che insomma non è proprio una bellissima notizia il sindaco di Monza piloto dice ci saranno compensazioni ambientali la fine dei lavori domani praticamente nel 2033 cioè è arrivato il sì definitivo al provvedimento che autorizza il prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano fino a Monza via libera di investimento 1,3 mila di euro di cui 931 dalle risorse statali 283 dalla regione Nombardia e 82 dai comuni coinvolti non c'è scritto quanto mette uno quanto mette l'altro cioè Milano non sa se ci sono altri comuni comunque questa è la cosa sappiamo che insomma il prolungamento di là è sulla M5 poi c'è il prolungamento della M1 dove i lavori in realtà erano già iniziati ma non so se capisce più quando finiranno e lo c'è dell'ok anche per il prolungamento della M1 dall'altra parte cioè da Bisceglie fino a Baggio cioè due fermate in più di Baggio quartiere Olmi in realtà praticamente quasi fino a Muggiano dovrebbe arrivare anche lì poi io dico sarà che io la faccio facile ripeto sapete che io sono un grande giocatore di Sim City il simulatore di costruzione delle città io la faccio facile nel senso che tiro dritto metto sotto però insomma ci sono delle situazioni in cui non capisce perché la fermata la facciano lì non la facciano dall'altra parte quella di quartiere Olmi dovrebbe essere interessante perché non è proprio in quartiere Olmi è dall'altra parte verso Baggio ma ci sarà una passerella che dovrebbe portare lì un po' un po' come la storia della M4 che non è arrivata che per me è ancora uno di quei grandi misteri della progettazione che non riesco a capire non riesco a concepire M4 che invece ha già visto un primo sì su un prolungamento verso Segrate quindi dall'altra parte lì è quella di portare anche magari verso San Raffaele però comunque quelli di Bucinasco ci avranno praticamente sul confine il loro deposito dei mezzi della M4 quindi un bellissimo gigantesco cubo grigio di cemento che fa da deposito ma non avranno la fermata a Bucinasco non lo so io ogni tanto rimango sempre un po' interdetto quando vedo queste cose anche il prolungamento della M5 c'è un progetto idealizzato che è assurdo perché arriverebbe a Settevo Milanese ma girerebbe e non metterebbe la fermata neanche lì quindi vabbè insomma anche lì è una roba un po' strana almeno questi erano i progetti che si erano visti un tre anni fa poi adesso non si sa più che film abbiano fatto comunque questo è quanto andiamo quanti con un po' di musica Lady Gaga Bad Romance Gaga uh la la Bad Romance 8 e 47 minuti Bad Romance Lady Gaga qui su Crystal Radio a pochi minuti della nostra fine della trasmissione ma ancora con tanta energia in corpo energia che dobbiamo darvi per prendere al meglio questa giornata che vede un po' più di luce rispetto alle primissime ore in cui siamo partiti insomma intorno alle 7 c'era buio pesto adesso vedo che un po' di luce si sta aprendo sulla città ma comunque continua a piovere è salita di un grado la temperatura prima c'erano 19 gradi adesso ce ne sono 20 ma comunque fa freschino eh che dite comunque prima di chiudere volevo raccontarvi della isteria che c'è intorno ai progetti che si fanno a Milano nel senso che no più che isteria schizofrenia mi vorrebbe da dire nel senso che non si capisce mai bene qual è il disegno finale ad esempio leggo da Repubblica Milano via ai lavori per un nuovo studentato della statale in arrivo 208 posti letto ok nella periferia sud di Milano ecco come sarà ma non stanno aprendo il campus a Mind perché adesso fa uno studentato nel vigentino nel vigentino vicino a via Noto via Noto che però in teoria dovrebbe chiudere poi perché dovrebbe spostarsi tutto dall'altra parte della città insomma perché ma soprattutto perché non ci spiegate bene quello che avviene perché appunto via Muzio attendolo sforza 8 così si chiama comunque non è a Scania sforza attenzione attendolo sforza quante via sforza ci sono a Milano comunque vabbè zona vigentino appunto nel quartiere vigentino 208 posti letto in arrivo a questo studentato vedremo quando sarà pronto ovviamente superficie lorda 8500 metri quadrati di cemento come al solito edificio con due volumi comunque ci sono varie situazioni sta di fatto che vabbè la ministra statale ha beneficiato di un cofinanziamento ministeriale di oltre 13 milioni per gli interventi di ristrutturazione della residenza così ha detto appunto Martina Brambilla l'attuale rettrice prorettrice ai servizi per la didattica e agli studenti della statale appunto eletta lo scorso mese più o meno vabbè comunque andiamo con un po' di musica ballate e se qualcuno capisce che direzione vuole prendere questa città vi prego scrivetemi un whatsapp perché ne ho bisogno ho bisogno di capire da che parte stiamo andando 8 e 54 minuti martedì 25 giugno siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi di Good Morning Milano è martedì e dopo di noi andremo ad ascoltarci Ambrogio Curti con senti questa alle 9.05 dopo il giornale radio le informazioni nazionali nazionali locali sportive tutto quello e quant'altro poi arrivano le informazioni sulla musica il nostro informatore musicale Ambrogio Curti con senti questa se volete riascoltare rivedere tutto quello che è successo questa mattina o nelle mattine precedenti c'è un sito goodmorning.milano.it siamo lì siamo anche sui social ci potete cercare Milano News Good Morning Milano insomma poi il 28 vi racconto insomma tante novità anche in arrivo nella nuova stagione si cambia un po' pelle diciamo cambiamo cambiamo colori cambiamo pelle ma siamo sempre noi come quando ti abbronzi che poi dopo devi tirare via il primo strato di pelle ma comunque sei sempre tu anzi magari sei sempre tu e anche molto più figo di prima e poi c'è il sito di Crystal Radio dove potete ascoltare noi ma anche tutte le altre trasmissioni che vanno in onda tutti i giorni anche lì da settembre uh ce ne sono delle belle ah che roba che roba domani sciopero dei mezzi ma noi invece non scioperiamo saremo qui dalle 7 alle 9 per raccontarvi tutto quello che succede in città questo è Good Morning Milano questa è la vostra sveglia matutina ciao a domani eeeh a domani eeeh 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 eeeh